Numero 7 L'unico obiettivo rimasto era Wolf Ma non avevo idea di dove si nascondesse Sapevo che i russi avevano un posto di comando delle operazioni speciali a Berlino Est Forse lui era in contatto con loro Mi sono preparato e sono partito Seguendo il suono delle guerriglie e del fuoco dei carri armati Si trattava del posto più pericoloso in cui potessi capitare Ma avevo bisogno di risposte E questo era l'unico modo Molti discorsi Ma... Ma... ... 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 Mi ascolto da solo iso! Sì, non lo so, non lo so. 40 minuti. Allì, non lo so. Non c'era un granché, però era più che sufficiente. Il tabù nera un gas nervino, potente e letale. Inalarlo, sfiorarlo o persino guardarlo distruggeva il tuo corpo in modi spaventosi. Wolfer, il progettista del programma, uno specialista di armi chimiche, stava aiutando i russi a riempire gli ultimi razzi tedeschi V2 con il gas. Il loro obiettivo? Londra. Quegli infami comunisti l'avrebbero fatta passare come la vendetta finale dei tedeschi. L'uccisione di Wolfer doveva attendere, non contava nient'altro ora. Dovevo fermare il lancio. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Certo 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 Tu le bastardo Certo Uuuuuh 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 Sposta, sposta Uuuuh ti sto giocando è un piacere, veramente ascolta, stai facendo tutto da solo morto, mastardo, non c'è uno a destra non c'è cazzo eh vabbè non è cacchio eh non c'è ma dove sta andando? senti qua adesso mi arrivo a freco non c'è mi ha ripreso dai mi ha preso chi non ci mi ha ripreso non c'è chi Oh Dio! Oh Dio! Siamo una p***a! Vai! oh davanti no attraverso la finestra non c'ho becchi da lì no non c'ho preverica ok ma finestra e ok 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 aah ecco ok 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 e vai dai oh ma dai ma fuori una croga non ci credo sempre allora facciamo questo io se li vedo te li contro ah si ah si mamma no io ti amazzo sorpresa ah 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 ecco quanto danza sta mira ah 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 è tanto che la composta ecco ah ah Oh 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Grazie a tutti